benvenuti sono maria laura dell'agenzia immobiliare casa in oggi ci troviamo a cadelbosco di sopra per visitare questa villa a pochi passi dal centro vi ricordo che questo è un video interattivo ci troviamo in pieno centro a cadelbosco di sopra a poca distanza da tutti i servizi primari dalle scuole alle palestre ai negozi del centro di cadelbosco se state cercando una casa singola adottata di due appartamenti completamente indipendenti se la vostra esigenza prevalente è quella di vivere vicini ad una famiglia voi cara oppure se il vivere in condominio vi sta risultando particolarmente stressante questa proposta è certamente la soluzione che stavate cercando da tempo ma passiamo alla nostra residenza che si sviluppa su tre livelli il piano terra è costituito da un portico a protezione dell'ingresso un'ampia cantina un ampio vanno lavanderia e due garage per un totale di 85 metri quadri eccoci nell'ampio e luminoso salone doppio su due livelli il salone come potete vedere affaccia su un ampio balcone che affaccia su una zona residenziale e tranquilla dal salone accediamo alla cucina e alla zona notte inoltre in questo appartamento abbiamo due bagni mi trovo nello splendido balcone coperto con travia vista e l'accesso diretto anche alla cucina semi abitabile così che potrete servire le vostre cene direttamente dalla cucina mi trovo nel disimpegno della zona notte dal quale abbiamo accesso al bagno principale e alle due camere matrimoniali eccoci nel secondo appartamento vi ricordo che in tutta la casa ci sono le zanzariere e gli impianti sono autonomi e separati qui ci troviamo nel salone dal quale si accede alla cucina abitabile allo studio alle due camere matrimoniali di cui di cui una con balcone e al bagno molto comoda e spaziosa questa cucina non è vero ci troviamo nella prima camera matrimoniale con parquet ed ecco voi la seconda camera con un bel balcone privato anche questa camera ha il parquet come la zona notte dell'appartamento al primo piano ottime finiture davvero ci tenevo a mostrarvi l'ingresso comune e le scale dotate di questa splendida vetrata che affaccia sul giardino vi ricordo che questa casa è davvero un'ottima soluzione per due famiglie che decidono di vivere insieme la villa gode di questa meravigliosa area esterna libera su quattro lati in parte a verde ed in parte pavimentata perfetta per il vostro tempo libero per i giochi dei bambini o perché no per tenere al sicuro un camper o le auto che vi sono care abbiamo anche un pozzo per l'irrigazione e il tutto è completamente recintato l'accesso è dotato di un cancello carrabile automatizzato non esitate a contattarci per qualsiasi altra informazione grazie per essere stati con noi grazie a tutti